Ciao, anzi come diciamo noi, Osu, e bentornati sul nostro canale. Oggi volevo parlarvi del nostro stile di Karate, il KENKA Karate. Il KENKA è uno stile di Karate basato interamente sullo studio del combattimento. Il KENKA è uno stile di Karate. Il KENKA è uno stile di Karate. Il nostro combattimento è fatto di... Il KENKA è uno stile di Karate. 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 Molto importante nel Kenka Karate è la funzione dell'algorismo. Per noi è molto importante gareggiare nei migliori circuiti nazionali e mondiali, perché ci dà modo di confrontarci con altri bambini provenienti da tutto il mondo e imparare gli uni dagli altri. Per questo ringraziamo Sensei Mara per le meravigliose esperienze che ci fa vivere. Oss! Ciao, spero che vi siete divertiti. Al prossimo video illustreremo qualche labbra. Per ora a tutti, Oss! Oss!